Ciao a tutti, fan del Grande Fratello. Oggi vi sveleremo il colpo di scena al Grande Fratello, dove la redazione ha preso una decisione disciplinare. State con noi fino alla fine, perché questo è un provvedimento che non passa inosservato. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno sollevato una questione seria, Beatrice e Vittorio parlavano senza microfono. Le accuse sono arrivate anche da Grecia e Rosie, che hanno chiesto provvedimenti. La redazione non ha esitato, multa del 30% al budget settimanale. Ma c'è di più. Letizia ha rivelato che anche lei e Rosie hanno conversazioni senza microfono sotto le coperte. Il video, ora sui social, coinvolge diverse persone, compreso Vittorio. Attenzione, perché parlare senza microfono è una violazione grave del regolamento del Grande Fratello. Le conseguenze potrebbero essere pesanti, nomination lampo, televoto immediato, o addirittura la squalifica. Il Grande Fratello si basa sulla costante sorveglianza, e chi infrange questa regola rischia grosso. Vi invitiamo a condividere i vostri pensieri nei commenti. Se questo aggiornamento vi è piaciuto, mettete un pollice in su e continuate a seguirci su AMF Channel. Rimani con noi per tutte le novità sul Grande Fratello 2023. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie.